vi faccio spaventare un po' se ancora non è finito di smontare ho avuto tutta la gomma piuma quella grande che era qui se devo togliere questi tutta sto parte qua perché questo va tutto di verniciato questo questo torco va tolto tutto e questa è famosa parte di sopra il famoso da famosa seduta fatta come cavolo non ci capita e guardate un po che hanno fatto hanno spillato questi spezzoni di gomma piuma sopra i buchi sopra le cinghie ma mi sembra mi pare normale guardate qua mi sembra normale una cosa leggere ma questo sto togliendo le cinghie i spillini giusto un paio che ho rimosso ecco qua guardate qua questa la cinghia quello che devo sostituire ecco qua spiglato sopra la cinghia assurdi cioè io ne ho smontati ho fatto le di poltrone matrioska ma una cosa leggere se tutta polvere che io e questa è la maschilina che c'ho se non metto la maschilina ma respiro infatti c'ho anche il bitone aspira polvere aspira tutto qui attaccata non ci credo non ci posso credere e che c'è spillini mi sembra normale a me no vabbè beh che rocchi ha fatto sto lavoro adesso mi tocca togliere tutta sta roba qui tutto questo il torcolo questo si chiama torcolo serve per non si si deve non si sentire lo spigolo se non si tiene spigolo qua si mette questo se non sia questo si può fare anche quella gomma a piuma così si inchioda a disposizione questo premo su tutto questo questo no questo va tolto questo no poi qui dietro di avanti tutti questi spillini non tutti tolti questi spillini chiuso su il singhiozzo va incollato tutto sta imbaratando va tolto questo va tolto questo va tolto perché anche lento va sostituito poi ci mettiamo una cinghietta qua punta una cinghietta qui forse una qui e una qui o quale qua ovviamente questi di sotto magari ne metto qualcuno in più sono un po pochine e per il mio gusto poi ovviamente prima di montare qualsiasi cosa questo va tutto ridipinto di nero e quello qua tutto in quanto ecco la sera e queste tre minuti bastano una serata